Ciao a tutti e ben ritrovati, allora quest'oggi andremo a vedere come si fa una query di creazione tabella e andremo a capire come si creano anche queste tabelle su altri database e poi come possiamo collegarli e mantenere il tutto funzionante andando ad approfondire un po' quello che avevamo visto nella parte 3 allora io cosa ho fatto? Ho creato due database come avevamo visto nelle precedenti lezioni ho creato il database di query dove andremo a fare tutte le nostre query e il database che va a storare i dati allora nel database di query praticamente avevamo creato nella lezione in cui creavamo la nostra prima tabellina avevamo creato la tabellina dei compleanni bambini che era questa qua, quindi due record proprio buttati là giusto per fare l'esempio adesso ipotizziamo che noi vogliamo prendere i dati, magari arriva uno da una fonte esterna o da qualsiasi altro punto e dopo ci facciamo magari anche un'elaborazione sopra, arriviamo alla fine del nostro processo che dobbiamo storare il dato da qualche parte quindi dobbiamo andare a fare una query di creazione tabella, quindi si va nel menu crea come abbiamo fatto per la selezione premiamo il menu struttura, ok? quindi crea, struttura query e facciamo drag and drop come facciamo con la selezione e poi decidiamo ovviamente quello che vogliamo farci sopra diciamo che una buona regola è che quando facciamo la query di creazione non andiamo a farci calcoli quindi cerchiamo sempre di portare giù un dato pulito, quindi lo tiriamo giù con l'asterisco questo perché? perché quando andate a fare calcoli poi magari ne dovete aggiungere ancora, ok? e magari a un certo punto non ci state più dentro con la query di creazione e dovete magari farne un'altra e questa poi vi scombussola magari il funzionamento della tabella che sta sotto perché magari dovete cambiare nome, perché dovete crearne un'altra o così via quindi io tendenzialmente questa è un'altra regola che mi sono dato è cercare di fare query di creazione tabella oppure di accodamento di dati sempre pulite quindi se devo fare calcoli li faccio nella query precedente poi chiudo sempre con quella di creazione dove la tiro giù pulita così com'è così è bella leggera e funziona sempre bene qui ricordatevi sempre menu progettazione e finestra delle proprietà anche sulle query di creazione conviene sempre mettere lo 0 qua allora, qui ho tirato giù con l'asterisco quindi qui ho fatto una query selezione se la eseguo ovviamente mi restituisce il risultato qui andiamo adesso sempre sul menu progettazione, creazione tabella così compare il menu che mi permette di creare la tabella allora io qui potrei mettergli ad esempio nome tabella però prima di fare query sto salviamo la query quindi facciamo il dischetto in alto e li diciamo facciamo A0010 ok come dicevamo all'inizio mettiamo la nostra nomenclatura lettera più 4 numeri e facciamo procedura terminata procedura underscore terminata sempre ricordatevi di non mettere mai spazi per avere più semplicità poi nel lavorare procedura terminata underscore crea perché stiamo salvando questa tabella ci copiamo poi tutto questo testo che sta qui ok lo copiamo tutto e premiamo l'ok perfetto quindi qui sulla sinistra abbiamo creato la query e è comunque il simbolo di selezione quindi abbiamo fatto una query di selezione facciamo la query accodamento qui su nome tabella ci mettiamo appunto il nome che abbiamo appena copiato senza un underscore crea e diciamo l'ok ok quindi qui si è trasformata adesso la salviamo e vedete che ha cambiato simbolo ok quando vedete questo simbolo significa che è una query di creazione tabella quindi vado a storare i dati quando la eseguo come vi dicevo all'inizio se premete il menu visualizza potete visualizzare quello che andrete a scrivere ma se premerete il menu il bottone esegue lui andrà ad eseguire la query quindi lui qua io l'ho premuto e mi dice guarda che stanno per essere incollate in una nuova tabella due righe se gli dico di sì andrà a crearla se gli dico di no annulla l'operazione gli dico di sì ecco che qui lei è andato a crearla ovviamente se faccio doppio clic qua ottengo lo stesso scusate chiudo la query faccio doppio clic qua mi dice la stessa cosa guarda che sta per essere eseguita la scrittura della tabella vuoi farlo sì o no? sì e lui va a crearlo come dice di sovrascriverla perché già la trova e la crea un ulteriore messaggio che è a coda 2 record quindi sempre sì 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 e lui l'ha creata nel nostro database vedete l'ha creata però non è questo che noi volevamo fare perché ricordiamo cerchiamo sempre di dividere le query con le tabelle quindi andiamo a togliere queste e andiamo a creare questa tabella in un altro database quindi entriamo in proprietà tasto destro nella query e premiamo su visualizza struttura così ritorniamo nella modifica della query ovviamente questo si fa così anche con le query di selezione o con qualsiasi altra query qui torniamo su creazione tabella premiamo su creazione tabella e qui è molto semplice basta di lì altro database ok qui il nome resterà sempre questo questo è il nome che prenderà la tabella quando andremo a crearla però gli diciamo guarda non nel database corrente lo mettiamo sul database del table quindi andiamo nel database che vi ho fatto vedere prima che è dentro qua eccolo qua è il test table ok quindi noi andiamo a scrivere noi stiamo lavorando su query in questo momento quindi la query verrà eseguita qui ma scriverà dentro quest'altro database quindi lo selezioniamo e premiamo ok lui cosa fa? ci mette il percorso di questa cosa qua che è appunto il parametro di riferimento sul dove dovrà andare a scrivere queste informazioni premiamo ok perfetto adesso salviamo quel dischetto l'iconcina è sempre la stessa vedete che non cambia niente adesso noi la eseguiamo lui dice sempre i soliti messaggi ecco che l'ha creata se noi andiamo ad aprire il table ecco che qui noi troviamo la nostra tabellina che abbiamo creata guardate noi adesso la cancelliamo così vedete che si crea magari e la lanciamo ok ecco qua creata e adesso se facciamo F5 ok se non vedete le cose immediatamente premete sempre F5 che refrescia tutto ed è comparsa la nostra tabellina perfetto adesso ipotizziamo che questo era un passaggio per scaricare la memoria quindi dobbiamo recuperare con l'informazione qua all'interno di questo database quindi come facciamo a collegarla in questo database l'abbiamo già visto facciamo un bel tasto destro sopra un oggetto o qualsiasi piuttosto che andiamo su dati esterni a nuova origine facciamo database access lo facciamo col tasto rapido importa access qui facciamo collega ok premiamo un bel collega all'origine e qua dobbiamo dire lì dove va il database quindi andiamo a cercarlo sul solito percorso quindi corsi msa access table ok selezionato il database gli diamo l'ok qui ci compare l'elenco delle tabelle che ci sono dentro quel database selezioniamo tutte quelle che ci interessano quando abbiamo selezionato tutto premiamo ok e qui ho sbagliato qualcosa lo rifacciamo collega facciamo table prendiamo la tabella e ecco che è comparsa vedete ed è comparsa con la freccetta se noi adesso l'apriamo ok leggiamo le informazioni che sono dentro l'altro database quindi quando noi andiamo ad aprire quella tabella lì si apre anche un file sotto vedete quando voi aprite un database compare un laccdb ok la versione standard dalla 2013 in parte dalla 2007 è accdb ok che è un'estensione migliorata diciamo quindi ogni volta che voi aprite un database si apre questo file qua se io adesso chiudo questa tabellina qua e vado qui vedete che l'lacdb non c'è più quindi è libero questo database se devo farci delle cose ad esempio se io devo compattare questo database non posso compattarlo se c'è dentro qualcun altro ok ad esempio vi faccio vedere io adesso apro questa tabellina ok e qui si è aperto si adesso apro questo database e cerco di compattarlo mi dice che non posso perché è già impegnato da un altro utente ok dall'utente admin che sono io da questo computer qua quindi non posso compattare il database finché qualcuno non lo libera però non è fisicamente non ha fisicamente aperto il database ha aperto una tabella che è dentro quel database che è praticamente come aprire il database quindi sempre attenzione anche a queste cosette qua se mettete su delle procedure poi quando andremo a vedere il task scheduler come lavorerà per automatizzare le computazioni e la manutenzione di database cercate sempre di metterle staccate in modo che non si scavalchino una con l'altra se no potrebbero darvi problemi comunque qui dopo quando noi andiamo a rieseguire di nuovo questa procedura che crea la tabella ok lui l'ha cancellata e l'ha ricreata però il collegamento ok continuerà a funzionare continuerà a funzionare finché non cambiate il nome dall'altra parte se cambiate il nome va ricollegato e su tutte queste cose qua sia con queste tabelle che con il CSV faremo un approfondimento poi sulla lezione 22 di come si gestisce questa cosa dei ricollegamenti bene direi che con questa lezione è tutto spero sia stata di vostro gradimento come sempre condividete la risorsa nei vostri social se vi fa piacere lasciate un bel like iscrivetevi se non siete iscritti grazie a tutti per l'attenzione ci vediamo alla prossima lezione ciao